È stato un sabato di indagini per gli agenti della Polizia di Stato che stanno cercando di fare luce sulla violenta rissa scoppiata in centro assedico e che ha visto fronteggiarsi alcuni ragazzi a pochi passi dalla sede del municipio. Clima teso, urla strattonamenti e sarebbe spuntato anche un coltello come riferito nell'immediatezza da alcuni testimoni oculari. Quelle scene da far west nel cuore della cittadina non potevano passare inosservate. Due giovani in particolare avrebbero aggredito un terzo, a sua volta difeso da una ragazza armata, si fa per dire, di un cartello stradale. Nelle vicinanze sarebbero stati poi ritrovati anche un manganello e dello spray al peperoncino. Un armamentario quindi che potrebbe suggerire una sorta di regolamento di conti ma ogni ipotesi va accertata. Il punto è che al momento dell'arrivo delle volanti i protagonisti del parapiglia si sono dileguati. Un gruppo sarebbe salito su un'auto che poi sfrecciata via. La stessa ambulanza del 118 è rientrata vuota, impossibile quindi stabilire se qualcuno sia rimasto ferito, seppur lievemente. La squadra mobile, subentrata nell'indagine, sta acquisendo anche le immagini della videosorveglianza alla ricerca di riscontri oggettivi. L'impressione è che a stretto giro possa chiudersi il cerchio su giovani coinvolti e movente.